Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi del calciomercato della Lazio che si sta infuocando negli ultimi giorni come era prevedibile dato che parliamo dei primi giorni di luglio e ci sono tante novità. A partire dalla risoluzione del contratto di Reina, una notizia che ha sorpreso un po' tutti e direi ha reso felici un po' tutti con tutto il bene che si possa volere alla Bamba Reina che è stato un grandissimo, è un grandissimo, il primo anno ci ha tolto le castagne dal fuoco diverse volte, lo scorso anno ci ha fatto vincere il derby d'andata, quindi si vorrà sempre bene alla Bamba Reina. Però ecco la Lazio sembra vicina ad un accordo con l'Empoli per Guglielmo Vicario intorno ai 13-14 milioni di euro e il secondo portiere dovrebbe essere Sirigu che si è svincolato dal Genoa. Ecco l'accoppiata di Cario-Sirigu non mi dispiacerebbe per niente, devo essere onesto, però poi ne parliamo più approfonditamente. Sembra che la Lazio sia ad un passo anche da da Casale del Verona, non si sanno ancora le cifre, io non credo che si parli di quei 10 milioni, credo che il valore di Casale si aggiri intorno ai 7-8 milioni che poi era la cifra che aveva accettato il Verona per cederlo al Monza, quindi credo che si tratti di 7-8 milioni. Sembra che ci siano passi in avanti anche sul fronte Romagnoli. Domani a Piazza del Popolo verranno presentate le nuove maglie Mizzuno e si vocifera che a presentarle possa essere un nuovo acquisto, un nuovo difensore centrale. Chissà se questo possa essere Romagnoli, certo è che sarebbe la mossa di marketing migliore di tutta la gestione lotito secondo me, sarebbe una mossa che mi gaserebbe non poco, devo essere onesto, ma la telecamera è un po' storta. Ok, adesso dovrebbe essere... ok, perfetto, era leggermente storta e sarebbe veramente una mossa clamorosa, clamorosa a livello di marketing. Poi che cos'altro? È ricicciato fuori il nome di Mertens, come dice Immobile, se Magra Lazio sia disposta ad offrire al giocatore un biennale da 5 milioni, quindi 2 milioni e mezzo a stagione. Quello di Mertens sarebbe l'acquisto più importante della campagna estiva della Lazio secondo me. Io credo che se la Lazio dovesse prendere seriamente Vicario, Sirigu, Casale, Romagnoli e Mertens andandoli ad aggiungere ai calciatori che sono già stati acquistati, quindi Marcos Antonio e Cancellieri, credo che sarebbe già con questi il miglior calciomercato dell'era lotito. E mi sbilancio, secondo me. Poi è ovvio, mancherebbero ancora un paio di innesti perché mancherebbe comunque il terzino sinistro titolare, mancherebbe la mezzala di quantità al posto di ACPA, quindi dei giocatori mancherebbero comunque. Io credo che il terzino sinistro non arriverà, credo che quella sarà la grossa mancanza della finestra di mercato estiva della Lazio, perché il rinnovo di contratto di Radu mi porta a pensare questo, mi porta a pensare che i terzini sinistri saranno Marusic e Radu, mentre i terzini destri saranno Lazzeri e Isai. Questo mi porta a pensare il rinnovo di Radu, altrimenti veramente non si spiega. Quindi, ecco, sono molto scettico sul terzino sinistro, però secondo me la mezzala di quantità verrà presa magari più avanti, perché non è fondamentale in questo momento, non è fondamentale averla ad Auronzo di Cadore, come per esempio altri calciatori. Che altro? A me dispiacerebbe molto se la Lazio rinunciasse a carne secca, devo essere onesto. Mi dispiace che la Lazio abbia virato su Vicario, anche perché la risoluzione del contratto da parte di Reina poteva essere la giusta opportunità per affondare su carne secca. Il problema era che tu non avevi il portiere per i primi due mesi e mezzo, tre mesi di campionato e che il tuo secondo era inaffidabile, ma con la risoluzione del contratto da parte di Reina tu potevi permetterti di prendere un secondo portiere affidabile, come può essere anche lo stesso Sirigu, e fare due mesi e mezzo con lui, in attesa di carne secca. Questa secondo me era la giusta strategia, poteva essere la giusta strategia, anche perché ragazzi, secondo me carne secca all'età di Vicario sarà molto più forte di Vicario, c'è poco da fare. Cioè carne secca sarebbe un vero acquisto, sarebbe un vero acquisto e un vero investimento. E secondo me la Lazio deve, ecco, nonostante la trattativa per Vicario, dovrebbe puntare qualcosina di più per carne secchi. Quei 3 barra 4 milioni in più, secondo me la Lazio deve osare. Tra l'altro i biancocelesti stanno dimostrando in questa finestra di mercato di non badare a spese, clamorosamente, perché voglio dire, 8 milioni sono stati spesi per Marcos Antonio, 7 milioni saranno spesi per cancellieri, Casale costerà praticamente la stessa cifra, 15 milioni è il budget che la Lazio si è riservata per il portiere. Quindi, ragazzi, la Lazio ha intenzione di spendere in questa finestra di mercato, bisogna ammetterlo. E quindi hai fatto 30, fai 31, punta quei 3 barra 4 milioni in più per carne secchi, che è un portiere che secondo me in futuro ti darà qualcosa di più, ma più di qualcosa di più rispetto a Vicario. Inoltre, scusate se continuo a insistere su carne secchi, ma carne secchi è un portiere bravissimo nelle uscite, ed è importante per una difesa 4. Vicario, invece, ha come punto debole proprio le uscite, è per questo che Sarri ha puntato o voleva puntare più su carne secchi. Vicario ha lo stesso difetto che aveva Stracoscia, quindi non lo so, vediamo che cosa succederà, sarebbe veramente un peccato rinunciare a un futuro portierone come carne secchi. Poi c'è anche una trattativa tra Lazio e Siviglia per la cessione di Luis Alberto, l'offerta momentanea del Siviglia è di 15 milioni più il cartellino di Oliver Torres, ma io credo che la Lazio voglia solo soldi, c'è la sensazione che si possa chiudere ad una cifra intorno ai 20 barra 22 milioni di euro, di questa cifra circa 14 milioni verrebbero incassati della Lazio perché il 30% della rivendita è destinata a Liverpool e la Lazio andrebbe a reinvestire quei soldi per il sostituto di Luis Alberto. Ilic, sembra che ci sia un'intesa totale per Ilic, sia con il calciatore che con il Verona. Questa è un'operazione che mi lascerebbe un po' di dubbi perché secondo me non avrebbe molto senso cedere Luis Alberto semplicemente per rimpiazzarlo con una sua fotocopia nove anni più giovane perché Ilic ha 21 anni e Luis Alberto ce n'è 30. Però che cosa intendo per fotocopia? Intendo che Ilic ha le stesse identiche caratteristiche di Luis Alberto, è bravo tecnicamente, è intelligente tatticamente, però è lento, è statico, esattamente come lo era, come lo è Luis Alberto e in quel centrocampo tu hai anche Milinkovic che non corre. Quindi è vero che hai preso Marcos Antonio che comunque è un mediano molto dinamico, però onde evitare i problemi che ha avuto il centrocampo lo scorso anno a livello di contenimento, a livello di fase difensiva, secondo me avrebbe più senso cedere Luis Alberto e rimpiazzarlo con un calciatore più di quantità, un calciatore più di gamba. Comunque vediamo che cosa succederà, comunque sì il mercato del Lazio si è veramente infuocato e la sensazione è che nei prossimi giorni arriveranno delle ufficialità importanti. Comunque si vede proprio la mano di Sarri, c'è poco da fare, si vede proprio la firma di Sarri su quel contratto e l'impronta che sta dando al calciomercato bianco celeste, un progetto di giovani che mi stuzzica veramente tanto. Ma ditemi qualcosa, ne pensate nei commenti, mettete tutti i like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto, noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, forza Lazio!